Musica Incivolata, ancora la Fiorentina, Sancho dentro in aria, attenzione Sancho, spazio Sancho! All'ottantanovesimo, è 2-2 I ragazzi sono già partiti, con la seconda semifinale c'è già una tattica di Maniscalco, il ripiegamento attaccante E la ribalta così, all'ottantanovesimo minuto, esultando Marco Maniscalco, Mauro Riccardi, è 2-1 Con controllo, mancano 36 secondi, questo sarà un 7-6 per Atlas, 35 secondi rimanenti Non riesce ad entrare in porta, adesso questa è una situazione pericolosissima per Occhi, la porta aperta, 20 secondi dalla fine Grazie a tutti